Che il Covid non spaventi più come nei tempi bui della prima pandemia è un dato di fatto, ma che continui a circolare tra la gente è anche questo un altro inequivocabile dato di fatto. Dopo anni di continue varianti il virus, finalmente meno aggressivo, continua però a rappresentare un pericolo soprattutto per le categorie dei fragili e degli ultra 65 anni, per i quali la vaccinazione resta ancora fortemente raccomandata unitamente a quella anti-influenzale, come spiega il Tg8 Giustino Parruti, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive della ASL di Pescara e responsabile scientifico, insieme al dottor Paolo Fazzi, della terza edizione del convegno su microbiologia e infezioni all'hotel Villa Maria di Francavilla al Mare. Tutte le ASL sono partite con una calendarizzazione dell'offerta vaccinale perché abbiamo bisogno che tutte le persone sopra i 60-65 anni e tutte le persone fragili possano avere accesso al richiamo della vaccinazione anti-influenzale e anti-covid. Quindi la grande scommessa per i nostri servizi sarà quella di rendere possibile la cosomministrazione dei due vaccini, rendere quindi meno necessario moltiplicare gli accessi e soprattutto non perdere mai di vista gli altri vaccini che dobbiamo integrare per la nostra salute, cioè quello anti-pneumococcico e quello per il fuoco di Sant'Antonio, per lo zoster. Solo da una strategia così ampia potremo veramente cambiare l'orizzonte di salute della nostra popolazione fragile. Qual è attualmente la situazione covid? Il virus è ancora purtroppo tra noi. La circolazione c'è e stiamo avendo un grande successo nell'uso degli antivirali che quando la diagnosi è fatta tempestivamente ci ottengono un'interruzione della progressione dell'infezione verso le forme più importanti di patologia respiratoria, le persone fragili del rischio di progressione, ma anche delle conseguenze durevoli di tipo internistico sempre nelle stesse persone fragili che pure non avessero un'infezione particolarmente impattante. Quindi adesso stiamo vedendo il frutto di una organizzazione strutturale ben congegnata a fronte di una persistente circolazione del SARS-CoV-2 che chiaramente dobbiamo continuare a considerare soprattutto con un ricorso al test nei casi sospetti. Dobbiamo farlo perché SARS-CoV-2 si può combattere bene solo quando tempestivamente diagnosticato. Oggi si parla di zoonosi, dobbiamo aspettarci qualche altro virus pericoloso? Purtroppo dobbiamo aspettarci che il cambio climatico che si è determinato consenta la persistenza delle antropozoonosi che abbiamo già conosciuto. Che la dengue sia diventata purtroppo endemica è qualcosa di cui possiamo essere abbastanza certi. Il fatto che possa tornare una malaria autoctona è qualcosa che dobbiamo tenere sotto stretta sorveglianza così come tutte quelle altre forme di zoonosi a partire dall'usutu che qui in Abruzzo ci ha dato i primi segnali di presenza anche se senza nessun riscontro clinico per arrivare alla infezione dal virus West Nile e tutti gli altri su cui dobbiamo essere molto forti nel monitoraggio.